La grande partita Buonasera, signore e signori! Mettetevi comodi perché stiamo per assistere alla partita del secolo! A combattere per portare il viola alla vittoria... I patos! E a difendere abbiamo i verdi! Gli ellis! Ehm, qual'è il problema? Oh, l'arbitro è entrato in campo! Ci siamo! La partita sta per cominciare! Vi manca un giocatore! Pensa, Ellie, pensa! Dove può essere? Pocoio, che cosa fai? Pocoio, bello! Sì, lo vedo, ma non dovresti essere da un'altra parte! Aspettate! Pocoio, arriva in campo! Gli ellis sono al completo! La partita è cominciata! Ellie prende la palla! È inarrestabile! Ma arriva Pato! Ellie tira! Sta per segnare! Sta per segnare! Ma Nina, il fulmine viola, prende la palla! Che stella, signore e signori! Nina entra in area, tira e... Quasi! Ronfotto para la palla con le sue ali! Che partita vincente! Qui, qui, qui! Pocoio raggiunge la porta dei Patoz! Evita Bruco e... Goal! Goal! Goal di Pocoio! 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 Na 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 na! Pocoio! 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 Certo, Pocoio! Hai fatto gol con le mani! Questo gioco si chiama calcio! Solo i portieri possono toccare la palla con le mani! È gol! Pocoio ha fatto gol! Fred Bara! No, giusto! Fred Bara! Il punteggio rimane 0 a 0! E le squadre hanno sempre tre giocatori! Ma c'è mancato poco! La partita ricomincia! Che abilità ha questo Pato! Corre con la palla! La schiva Pocoio passa sotto Ellie! Sta per tirare! No, Varo! Fred chiede di vedere il video! Pocoio, in effetti non hai barato! Ma è rigore! Cartellino? No, cartellino! No, giusto! Pocoio è arrabbiato! Cattivo! Cattivo! No! Oh, caspita! Calcio di rigore per Pato! Si concentra, tira e... Gol! Gol, 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 gol! Pato segna! Super Pato! Grande attaccante! La squadra esulta! L'arbitro fischia per l'intervallo Pato 1, Ellis 0! Sì! Vinci o re! Vinci o re! Vinci o re! Andiamo! Comincia il secondo tempo! Pato e Nina attaccano i verdi! Ma il muro Ellie riprende la palla! Ellie attraversa il campo! Pato cerca di fermarla, ma Ellie lo evita! E passa la palla a Pocoio che tira! Oh! Pocoio, stai bene? No! A Pocoio non piace! Pocoio fare gol! Gol! A Pocoio non piace! Sì! Pocoyo, gol! No, cartellino rosso! Pocoyo, gol! Gol, 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 gol! Pocoyo, giusto! Gol, gol! No, mani! Giusto calcio! Fare gol! Che bell'idea, Fred! Se giochiamo a rugby, Pocoyo non farà più falli perché lo scopo del gioco è fare punto con le mani. Rugby? Sì! Rugby! Evviva per chi si diverte facendo sport! Qualsiasi esso sia! Ciao, ciao! Alla prossima!